Grazie Presidente, voglio intervenire anche io su questo emendamento 3.0700 perché è a coronamento di almeno una decina d'anni di lavoro, di tentativi. Vi ricordo nel 2010 un disegno di legge della Lega sull'etichettatura, poi dopo ben cinque governi a targa PD, oggi questo governo è riuscito finalmente a portare a casa il provvedimento sull'etichettatura. Io ringrazio il Senatore Tarico per la sua dichiarazione di voto a favore, finalmente troviamo una condivisione su un provvedimento che va a favore non solo dei cittadini ma di tutti quanti noi. Dopo dieci anni finalmente avremo un po' di trasparenza sulle tavole di tutti i cittadini di questo Paese, avremo finalmente dato un po' di verità sull'etichetta dei nostri prodotti agroalimentari. Non compreremo più il pomodoro cinese camuffato con la scritta prodotto in Italia, finalmente il consumatore nel momento in cui andrà ai supermercati o negli scaffali potrà decidere se comprare il pomodoro cinese con su scritto prodotto in Cina o comprarsi finalmente il pomodoro italiano con su scritto prodotto in Italia, fatto in Italia. Finalmente un buon provvedimento di buon senso che va a favore di tutti i cittadini ma anche e soprattutto va a favore del reddito dei nostri agricoltori. Finalmente daremo un po' di dignità economica anche al nostro Made in Italy. Grazie. Grazie, signor Presidente Vallardi.